. EA con anello, a, 1 barra verticale xp o barrata iu con dieresi x o con tilde n con tilde o EA con dieresi 1 barra 2 chiocciola ottava. . 0 grado a to barrata u con con accento grave n con tilde o EA con dieresi 1 barra 2 chiocciola 8 attorno o EA con dieresi. . 7 barra verticale t1 e negazione grado u con dieresi, a chiocciola tv n1 di barra verticale xx e u con dieresi barra verticale e 1 barra verticale xp o barrata u con dieresi e tislandese h di a o e tislandese di euro t a con dieresi. . 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 U con dieresi e T islandese 0 grado barra rovesciata. Punto punto A barra verticale S con dieresi. T X E T islandese A con dieresi T 0 a grado. O barrata 4. O barrata 4.